Alberto Pittarello ha agito con premeditazione, studiando l'omicidio nei minimi dettagli. Si tratta dell'indagine volta a svelare un altro tragico caso di femminicidio, avvenuto a Bovolenta, Padova, martedì 27 febbraio. La vittima è Sara Buratin, una donna e madre di una ragazza di 16 anni. Il suo assassino è il marito Alberto Pittarello. Sara si era trasferita dalla madre in quanto desiderava allontanarsi da lui. L'uomo si è recato a casa della suocera con un piano ben definito, uccidere la donna che aveva osato lasciarlo. Ci sono diversi indizi a supporto dell'ipotesi di premeditazione. Innanzitutto, Pittarello sapeva che sua moglie, assistente presso uno studio dentistico, avrebbe avuto il giorno libero. Era sicuro di trovarla a casa dato che il martedì non lavorava mai. Egli, un tecnico manutentore di caldaie, aveva richiesto e ottenuto un giorno di ferie senza che nessuno potesse immaginare il motivo. Martedì mattina, Pittarello ha telefonato alla suocera, Maria Grazia Pasquetto, comunicandole l'intenzione di passare da casa sua per lasciare lo scooter alla figlia. La donna ha risposto, vieni, io non ci sono, ma trovi Sara. Probabilmente era solo un inganno per verificare se la moglie si trovava in casa da sola o con la madre. Dopo essersi assicurato di avere campo libero, l'uomo ha messo in atto il suo piano. Una telecamera ha registrato il preciso momento del suo arrivo di fronte all'abitazione della suocera, erano le 10.05. Sara però era già uscita. Indossava una tuta e un paio di scarpe da ginnastica, in attesa del marito, che era stato avvisato dalla madre. Quando è giunto, insieme hanno scaricato lo scooter dal furgone e lo hanno parcheggiato nel garage sul retro dell'edificio. Ma nel momento in cui la povera donna ha voltato le spalle al marito, egli l'ha attaccata con 20 coltellate alla schiena e al collo, usando un coltello da escursionista. I primi due colpi, sferrati tra collo e nuca, si sono rivelati fatali. Molti altri sono stati inflitti mentre Sara era già a terra, in uno stato di agonia. Subito dopo, l'uomo ha gettato a terra il coltello ed è scappato. Erano appena passate le 10.30. Una vicina lo ha visto allontanarsi a bordo del furgone. Alle 11, la madre Maria Grazia è tornata a casa e ha fatto la terribile scoperta. Il corpo della figlia giaceva nel capanno degli attrezzi. Sconvolta e in stato di shock, ha cercato di praticare un massaggio cardiaco nella vana speranza che Sara fosse ancora viva. Ma la giovane donna era già deceduta. Il suo cuore aveva cessato di battere dopo i primi due colpi. L'autopsia verrà eseguita per fugare ogni dubbio sull'orario del decesso. Nel frattempo, il marito assassino era già a bordo del suo furgone. Ha spento il telefono e l'ha gettato dal finestrino. Il dispositivo è stato rinvenuto nel pomeriggio del 27 febbraio lungo l'argine del fiume Bacchiglione. A 200 metri di distanza si notavano i segni di un veicolo uscito di strada e scivolato lungo l'argine. Le impronte degli pneumatici terminavano in acqua, corrispondenti al furgone del ricercato. I sommozzatori hanno operato incessantemente per recuperarlo dal fiume, nonostante le avverse condizioni meteorologiche. Quando il furgone è stato riportato in superficie, al suo interno si trovava il cadavere di Pittarello. Gli investigatori sono convinti che l'uomo non sia stato coinvolto in un incidente durante la fuga, ma abbia volontariamente deciso di gettarsi nel fiume. La sua morte, evidentemente, faceva parte del suo macabro piano. Le indagini continuano senza interruzioni. La procura ha ricostruito gli ultimi giorni del presunto assassino. La sera precedente all'omicidio, Pittarello aveva partecipato a una partita di calcetto, una consuetudine per lui di ogni lunedì. Proprio lunedì 26 aveva confidato ai compagni di squadra che la sua storia con la moglie era giunta al termine. Io e Sara ci siamo lasciati, aveva dichiarato nello spogliatoio. Il dirigente della squadra, Stefano Luise, ha raccontato. Da qualche tempo era abbattuto, ma non avremmo mai pensato che potesse succedere tutto questo. E nemmeno la madre di Sara temeva un epilogo del genere. Ha dichiarato al pubblico ministero. Mia figlia stava con me da qualche giorno, aveva lasciato il marito, ma io non li avevo mai visti nemmeno litigare. Eppure, Pittarello, non ha agito in preda a un raptus, ma piuttosto al culmine di un piano diabolico studiato nei minimi dettagli. Una storia veramente terribile.